Caos sulla cancellazione dell'ospedale unico Salta Martini replica all'opposizione in aumento i nuovi casi di covid-19 nelle Marche 702 in regione 86 a Pesaro iniziati questa mattina i lavori di stabilizzazione per la rotatoria di Loreto chiudono domani le domande per i bonus del comune più di 5.000 richieste arrivate Buona serata eccoci arrivati a un nuovo momento dedicato all'informazione nel nostro Rossini News in questo mercoledì 11 novembre in apertura torniamo a parlare dell'ospedale unico perché dopo l'annuncio della sua cancellazione da parte della nuova giunta regionale e la replica del sindaco Ricci questa sera abbiamo intervistato il neo assessore alla sanità Salta Martini che ci ha spiegato le considerazioni alla base di questa scelta insieme alle dichiarazioni dell'assessore anche la replica del capogruppo di maggioranza del partito democratico in consiglio comunale massimiliano amadori ha suscitato grande rumore la decisione arrivata dalla nuova giunta regionale di voler eliminare la realizzazione dell'ospedale unico muraglia dopo le parole del sindaco di pesaro matteo Ricci nettamente contrario alla cancellazione del progetto arriva ora la risposta del neo assessore alla sanità regionale filippo salta martini noi l'abbiamo messo nel nostro programma elettorale siamo stati eletti dalla maggioranza dei marchigiani con questo programma che vuole valorizzare il territorio e naturalmente evidente che alla luce della di questa epidemia sia necessario che la sanità non sia concentrata in un unico ospedale come era precedentemente prevista ma deve essere diffusa perché appunto è un diritto fondamentale non si tratta solo di un problema delle strutture dentro terra probabilmente faremo anche un ospedale nuovo non unico nuovo quindi i finanziamenti non si perderanno e però la risposta deve essere concertata nel senso che eh ogni struttura dovrà dare un'efficienza del al sistema complessivo noi dobbiamo ridiscutere il piano socio sanitario che è stato approvato dalla precedente giunta il piano socio sanitario precedente cosa prevedeva una limitazione sostanzialmente una un taglio di tutti i piccoli ospedali per concentrare tutta la risorsa sanitaria eh in un unico plesso ospedaliero appunto l'ospedale unico e questo chiaramente non è possibile perché stiamo vedendo con l'epidemia che è un impianto sbagliato noi abbiamo nel nostro programma elettorale cioè non è una novità siamo andati dagli elettori a sostenere questo programma e la maggioranza l'ha validato che adesso il sindaco di Pesaro Ricci o altri sindaci si stiano dando tanto diciamo così e si stiano tanto da fare per limitare questo progetto ecco probabilmente si devono rendere conto anche che c'è stato un guaglio del corpo elettorale che evidentemente ha valorizzato questo progetto che noi abbiamo più una sanità di qualità ma sul territorio se le proposte d'opposizione avranno quella caratteristica di essere persuasive e non ideologiche o conflittuali e noi le accoglieremo il piano socio sanitario non lo fa solo la maggioranza e quindi bisogna sempre ascoltare non solo il sindaco di di Pesaro ma bisogna anche ascoltare il sindaco di Fano il sindaco di Urbino il sindaco di Fossombrone il sindaco di Cagli il sindaco di Pergola e così via l'impegno che io manifesto a nome della giunta della maggioranza è quella di aumentare i servizi nella regione senza chiuderci dietro a un feticcio che è quello dell'ospedale unico favorevoli all'eliminazione dell'ospedale unico anche i pentastellati con la rappresentante 5 stelle in consiglio regionale marta ruggeri che ha sottolineato come le risorse che la vecchia giunta voleva destinare al progetto non andranno perdute e saranno invece destinate all'adeguamento degli ospedali regionali la nuova replica dalle forze di opposizione arriva dal partito democratico con il capogruppo di maggioranza in consiglio comunale a pesaro massimiliano amadori credo che quello che la giunta regionale ha fatto è sicuramente un atto contro pesaro e la sua provincia è un atto politico contro i nostri amministratori e tutti i cittadini cittadini che sono i primi a rimetterci che saranno costretti a ricorrere a cure mediche nei migliori casi ad ancona o fuori regione credo ancora che il progetto dell'ospedale unico serva proprio ad migliorare i servizi sanitari e a renderli più moderni in più una nuova struttura permetterebbe di limitare la mobilità passiva diventerebbe un riferimento per tutta la provincia e renderebbe migliore il lavoro di chi lavora al suo interno c'è un percorso che è stato intrapreso e da lì che bisogna ricominciare per non rimanere indietro e noi lavoreremo sempre perché pesaro e la sua provincia abbia il loro ospedale ed ecco la consueta pagina degli aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.656 tamponi 2.067 nel percorso nuove diagnosi e 1.589 nel percorso guariti i positivi sono 702 nel percorso nuove diagnosi 154 nella provincia di macerata 177 nella provincia di ancona 86 nella provincia di pesaro urbino 82 in quella di fermo 182 nella provincia di ascoli piceno e 21 da fuori regione in primo piano questa sera anche la cronaca perché la guardia di finanza di pesaro ha concluso un'importante operazione nei confronti di un imprenditore lombardo il quale è responsabile di una frode fiscale e a cui è stata sequestrata una villetta del valore di 120 mila euro vediamo il servizio è stato reso noto questa mattina dalla guardia di finanza di pesaro il termine di un'importante operazione per contrastare un intricato broglio fiscale realizzato da un imprenditore di origini toscane e residente in lombardia che per portare a termine la frode aveva operato anche sul territorio pesarese rivolgendosi ad uno studio cittadino indagini che si sono concluse con il sequestro di una villetta dal valore di 120 mila euro appartenente all'uomo il cui ruolo era quello di rappresentante legale di una società attiva nel milanese le indagini condotte dalle fiamme gialle hanno portato quindi a scoprire che la società per cui lavorava l'imputato si è resa protagonista di un importante reato fiscale quello dell'indebita compensazione di crediti iva la cui conseguenza è un pagamento delle imposte inferiore rispetto al dovuto e utilizzando crediti inesistenti nel corso del 2017 l'imprenditore lombardo per completare l'operazione si è avvalso della consulenza di uno studio pesarese che però è risultato essere estraneo i fatti le indagini patrimoniali condotte nei confronti dell'imprenditore e della sua società hanno portato quindi a sequestro da parte della guardia di finanza di una villetta appartenente all'uomo e situata in provincia di lecco il cui valore ha permesso di ristorare per intero il debito accumulato l'imprenditore che attualmente si trova in carcere è risultato essere solito a questa tipologia di reati avendo già raccolto numerosi precedenti di polizia per frode fiscale estorsione e riciclaggio l'attività svolta dalle fiamme gialle pesaresi si inserisce nel quadro delle operazioni a contrasto di fenomeni silenziosi ma dannosi per l'intera collettività e continuiamo con la cronaca è di tre indagati con quasi 2400 persone controllate il bilancio dell'attività nell'ultima settimana del compartimento polizia ferroviaria per le marche umbria e abruzzo in particolare ad ancona gli agenti hanno rintracciato all'interno della stazione ferroviaria tre minorenni di nazionalità albanese di età compresa fra i 16 e 17 anni che si erano allontanati da una comunità di fano dopo gli accertamenti di rito i giovani sono stati riaffidati agli operatori della struttura e dopo settimane di sperimentazione sono partiti questa mattina i lavori per la stabilizzazione della rotatoria di loreto per uno degli incroci stradali più trafficati della città sono partiti questa mattina i lavori per rendere definitiva la rotatoria di loreto un intervento che arriva dopo un lungo periodo di sperimentazione e che prevede un restyling completo dell'area più che positivo il commento dell'assessore all'operatività enzo belloni il quale ha sottolineato come la rotatoria abbia ridotto drasticamente il verificarsi di incidenti in uno degli incroci più trafficati della città devo dire una sperimentazione che ha funzionato questo era l'incrocio della città dove venivano registrati più incidenti attraverso la realizzazione della rotatoria provvisoria gli incidenti sono calati in maniera esponenziale per questo abbiamo deciso di rendere questa rotatoria definitiva e magari è stata realizzata dopo tante altre però ci sembrava giusto visto il numero elevato di auto che si transitano quotidianamente rendere la definitiva anche perché attraverso la realizzazione di questa rotatoria definitiva renderemo più fluido anche il passaggio di pedoni di biciclette e oltre che dal punto di vista estetico rendere questo pezzo di città più sicuro ancora attraverso la realizzazione della rotatoria definitiva ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto è un progetto diciamo ambizioso e anche dal punto di vista politico fortemente voluto dal quartiere hanno lottato diciamo per per anni per avere questa rotatoria e devo dire che nel giro di tre mesi penso che i tempi del cantiere sono circa 90 giorni e arriveremo a vedere la rotatoria definitiva attorno alla fine di gennaio il costo dell'intervento il costo dell'intervento è superiore ai 160 mila euro un intervento importante perché ovviamente prevede asfaltatura cordoli passaggi pedonali e tutta la nuova illuminazione perché la nuova rotatoria prevede la demolizione del vecchio lampione la realizzazione di una illuminazione nuova d'accordo tutti è sempre impossibile no perché molti ci chiedono magari di poter in via ugolini dove siamo noi in questo momento di poter entrare in rotatoria ma non si poteva fare nemmeno prima magari chi lo faceva commetteva un illecito dal punto di vista viabilistico e però a parte le file che ovviamente in alcune situazioni si formano venendo dal centro in direzione via flaminia però complessivamente dobbiamo dire che l'intervento ha ottenuto i risultati che ci aspettavamo è fissata per venerdì 13 novembre la rappresentazione online del parco urbano di scultura di pesaro un progetto che vuole dare risalto alle sculture all'aperto che arricchiscono la città di pesaro un'iniziativa promossa dal comune e sostenuta da diverse altre realtà tra cui la fondazione pescheria le opere individuate per entrare a far parte del parco urbano di scultura sono 20 appartenenti ad autori universalmente noti in previsione dell'istituzione del parco urbano di scultura di pesaro i soggetti coinvolti hanno definito un programma di appuntamenti digitali di approfondimento primo di questi sarà il webinar in programma proprio per questo venerdì dalle 15 30 alle 19 30 incentrato sulle opere degli anni 60 e 70 per partecipare sarà necessario registrarsi sul link presente nel sito dell'ordine degli architetti gioia alle stelle all'istituto bramante genga perché la classe quinta bt con il progetto una città per tutti ha conquistato e convinto la commissione del concorso nazionale i futuri geometri progettano l'accessibilità tanto da giudicarsi il primo posto nella categoria spazi urbani il progetto ideato dagli studenti si concentra sullo studio di una nuova accessibilità per piazza della libertà e piazza del popolo a pesaro la premiazione sarà in formato digitale e avverrà domani alle 12 sulla piattaforma zoom il concorso è promosso dall'organizzazione fiaba onlus e ci saremo anche noi con le telecamere di rossini tv il presidente della giunta regionale delle marche francesco acquaroli sarà in collegamento domani giovedì 12 novembre alle ore 15 30 con la conf commercio di pesaro e urbino marche nord all'appuntamento saranno presenti i vertici della conf commercio e delle associazioni aderenti al sistema la riunione è estremamente importante alla luce anche dell'emergenza economico sanitaria che il paese sta vivendo con particolari ripercussioni negative soprattutto per i comparti economici rappresentati da conf commercio e il comune di pesaro affidato la gestione della pista di pump track e skate di via dell'acquedotto alla sd bike trail di pesaro che controllerà ingressi e tempi e che si occuperà della manutenzione ordinaria dell'impianto da oggi fino al 31 gennaio 2021 la turnazione prevista dal regolamento dell'impianto prevede accessi ogni ora e mezza indicazione che garantirà un numero massimo di ingressi nell'impianto e in totale saranno 40 le persone che nello stesso momento potranno accedere all'area aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 30 il sabato e la domenica dalle 9 30 alle 20 il presidente dell'associazione gialluca longhi ricorda come per accedere all'impianto sia necessario prenotare tramite l'app palestre è stato presentato questo pomeriggio in piazza del popolo il presidio che la piattaforma di giovani studenti e precari di pesaro insieme ad altri gruppi di lavoratori marchigiani in bombilitazione sta organizzando per sabato 14 novembre a pesaro sentiamo allora qualche dettaglio in questa intervista all'organizzatore è una manifestazione che riguarda lavoratori e studenti in particolare i lavoratori meno rappresentati solitamente quindi lavoratori dello spettacolo del turismo e stagionale in generale è una manifestazione che innanzitutto ci tengo a ribadire verrà fatta nel rispetto di tutte le norme covid ed è una manifestazione che punta a dare una voce in primis agli studenti che spesso nella nel resoconto di questa crisi non vengono considerati come parte integrante quando in realtà lo sono perché la didattica ci è stata veramente portata via e poi appunto parteciperanno e interverranno i lavoratori di attività che sono state messi in ginocchio da da queste chiusure veramente restrittive ci saranno degli interventi al microfono e prevediamo che di avere un intervento per ogni studente che essenzialmente racconterà appunto la propria esperienza durante durante la crisi data dal coronavirus studenti di istituti e scuole diverse tra professionali liceo e tecnici e poi interverrà la campagna contro lo sfruttamento stagionale usb e la federazione del sociale per quanto riguarda i lavoratori della partecipazione prevediamo sarà più che altro di ragazzi ovviamente non solo e questo ci serve anche a ribadire un po quella che la questione generazionale poiché spesso quelli che pagano la crisi sono appunto sono appunto più giovani l'appuntamento è in piazza del popolo qui a pesaro alle ore 10 di sabato 14 novembre terminerà domani la possibilità di poter inviare le domande per usufruire dei buoni spesa bambini e impresa stanziati proprio dal comune di pesaro sentiamo allora come sta andando questa iniziativa promossa dall'amministrazione comunale nelle parole dell'assessore ricardo pozzi è fissato per domani giovedì 12 novembre il termine ultimo per poter presentare le domande relative ai bonus pesa bambini e imprese stanziati dal comune di pesaro incentivi che l'amministrazione comunale ha creato grazie all'assegnazione del contributo di un milione di euro destinato dal governo alla città per far fronte alle esigenze economiche dei cittadini in seguito all'emergenza covid 19 a fare il punto sulle domande che gli uffici comunali hanno raccolto fino ad oggi e l'assessore con delega al bilancio e al patrimonio ricardo pozzi la partecipazione delle famiglie pesaresi ai tre bonus realizzati dal comune di pesaro è stata una partecipazione importante l'intervento straordinario lo ricordo era stato un intervento di un milione di euro che come amministrazione abbiamo deciso di destinare immediatamente alle famiglie alle famiglie in difficoltà le famiglie con i bambini da 0 a 14 anni e a quelle attività che hanno subito un calo del fatturato importante superiore dell'ottanta per cento rispetto allo scorso anno le domande pervenute sino ad oggi sono 1.500 per il buon sospesa quello che si rivolge alle famiglie in difficoltà economiche mentre sono 4.300 i bambini che riceveranno il bonus per la loro crescita per il loro percorso di crescita e di formazione 60 invece le attività che hanno fatto domanda per il bonus blocco attività questi numeri confermano l'importanza e l'urgenza di un intervento che andasse in questo momento a sostegno di quelle fasce più deboli un intervento che è stato reso possibile grazie a un lavoro importante di concertazione che hanno fatto i sindaci con il governo e che ha portato a pesaro un milione in più straordinario che l'amministrazione ha deciso di destinare subito alla popolazione ai pesaresi e per rivedere e capire bene le modalità di partecipazione vi invitiamo a guardare il nostro sito rossinitv.it e ricercare il servizio che abbiamo fatto qualche giorno fa in cui abbiamo spiegato dettagliatamente come poter usufruire di questi buoni appunto dati dal comune di pesaro e partirà invece lunedì in diretta dalle 10 alle 11 un nuovo programma su rossini tv si chiama casa rossini saremo in diretta sia tv che facebook una tre mattine a settimana per stare insieme a voi e per farvi partecipare attivamente al programma e il conduttore coordinatore di questo programma è paolo pagnini casa rossini è un espediente visto che non potevo ricevere persone a casa mia ho pensato di entrare io nelle case degli altri naturalmente è una battuta per dire che attraverso lo strumento di rossini tv noi il lunedì mercoledì e venerdì al mattino in diretta e questa è una cosa che mi responsabilizza molto e entreremo nelle case di chi ha voglia di scoprire che cosa succederà in questo salotto televisivo l'idea è quella di creare appunto un salotto tv con ospiti per cui stiamo già lavorando alla selezione degli ospiti e devo dire che ce ne sono anche parecchi già pronti in lista d'attesa o inseriti nel calendario e gli ospiti vanno naturalmente da attività commerciali del nostro territorio a magari perché noi personaggi politici sempre della provincia da personaggi della cultura insomma cerchiamo di spaziare il più possibile in ogni puntata ne accoglieremo due o anche tre ci sono anche delle rubriche previste tra cui dai miei antichi trascorsi radiofonici ho recuperato la dedica ricordiamo quindi l'appuntamento e se vuoi darci qualche anticipazione sulla prima puntata sulla prima settimana della messa in onda di casa rossini guarda anticipazione non ne do perché essendo una diretta fino all'ultimo non si sa mai l'appuntamento è per lunedì 16 alle 10 mi raccomando state con me perché mai come durante le dirette c'è bisogno di sentire il contatto col pubblico a casa che tra l'altro potrà interagire attraverso un numero speciale whatsapp che stiamo predisponendo per cui meglio di così non si può perlomeno ci proveremo a fare ancora meglio di volta in volta con anche perché no col vostro aiuto cala rossini dal 16 novembre alle 10 su rossini tv e allora non perdetevi la prima puntata di casa rossini lunedì alle ore 10 poi ci saranno le repliche durante l'arco della giornata e intanto andiamo a parlare invece della prima serata di rossini tv questa sera si ride vi rallegriamo un po la serata con questa commedia dialettale la vita la gira sgonde il vent due atti in vernacolo pesarese di gabriele morbidi con la regia di albino calcinari alle ore 21 e 15 e poi vi ricordo che domani e sera alle 21 e 15 arriva la nuova puntata di insieme a canestro gli ospiti li vedete qui saranno matteo tambone che play guardia della vl alessandro mengucci che responsabile rapporti pubblico e tifoseria e alfredo carboni che è un opinionista televisivo e tutti e tre coordinati dal nostro marco cadedu e a proposito di sport un nuovo appuntamento collita service calcio a 5 pesaro venerdì alle 20 e 30 saranno al pala nino pizza e combatteranno contro il futsal genova non perdetevi quindi la diretta su rossini tv alle 20 e 30 abbiamo detto davvero tutto vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa di domani alle 7 20 in diretta buona serata